La bellezza del dono che è Maria e che diventa dono per tutti noi con le parole di un grande santo che descrive quello che accade in Maria. Dice Sant'Anselmo di Aosta, Dio è il padre delle cose create, Maria la madre delle cose ricreate, Dio è padre della fondazione del mondo, Maria la madre della sua riparazione, poiché Dio ha generato colui per mezzo del quale tutto è stato fatto e Maria ha partorito colui per opera del quale tutte le cose sono state salvate. Buona festa dell'Immacolata a tutti voi.